buongiorno ragazzi e buona domenica oggi abbiamo veramente una notizia bomba è uscito fsd quindi la beta del full self drive che è praticamente la guida autonoma al massimo livello di elon musk con tesla circa un mese fa elon musk dichiarò che gli ingegneri responsabili del full self drive stavano riscrivendo completamente il software anzi lo avevano già riscritto completamente e c'era una beta in fase di test e un mese successivo quindi in questi giorni doveva uscire anche una beta per un pubblico molto ristretto di owners sicuramente solo americani quindi crediamo che non arriverà mai qui in italia almeno la beta quindi vedremo poi con la regolamentazione europea cosa capiterà però io oggi posso farvi vedere come funziona in america e devo dire che funziona veramente molto bene io sono matteo valenza benvenuti in questo nuovo video per prima cosa ragazzi voglio ringraziare tantissimo tesla rage uno youtuber americano che mi ha lasciato la possibilità di utilizzare tutto il suo video grazie mille tesla rage come vedete siamo su una tesla model x in una strada americana non ci sono assolutamente le strisce e qui automaticamente impostata una destinazione autopilot ha cominciato il suo giro vedete in alto a sinistra abbiamo il tachimetro e da lì possiamo vedere esattamente quello che vede in questo momento l'autopilot notate come l'auto rimanga sulla destra e veda tutte queste i veicoli che sono parcheggiati sia sulla sinistra che sulla destra oltre a questo vede anche i vari cassonetti eccetera guardate come prende con confidenza a 20 miglia orarie la curva ci sono anche auto parcheggiate all'interno dei parcheggi vedete che le vede comunque in ogni caso vedete questa mustang sulla sinistra questa curva tiene bene adesso ci sono le strisce tiene bene il centro della strada e guardate in alto a sinistra mamma quante cose che sta visualizzando l'autopilot immaginatevi questo computer che analizza 120 immagini al secondo anzi che dico 120 1200 immagini al secondo perché qui siamo su hardware 3.0 vedete come rimane bene sulla destra ora c'è uno stop viene visualizzato anche in alto vediamo che ci sono delle linee tratteggiate vedete la macchina che sfilano davanti curva mette la freccia e parte rimane bene sulla destra ma adesso mette la freccia va a sinistra perché nella prossima alla prossima intersezione deve girare a sinistra vedete ancora adesso come si infila perfettamente nella corsia di sinistra c'è il semaforo attende il suo turno queste due macchine le sfilano accanto vedete anche ancora rosso attendiamo che scatti il verde e proviamo a vedere adesso come si inserisce vedete che ha aspettato chiaramente sia il verde ma anche che ci siano altre auto in mezzo alla strada ovviamente quindi non è che guarda solo il semaforo vedete come rimane perfettamente nella sua corsia sempre centrale senza andare né di qui né di là in quest'altro esempio possiamo vedere come si comporta il sunman perché anche il sunman ha avuto un notevole miglioramento grazie ovviamente al nuova intelligenza artificiale al nuovo codice scritto dagli ingegneri tesla vedete come piano piano l'auto ha fatto retromarcia si sta avvicinando allo stop il suo owner è alla destra qui all'ingresso di questo centro commerciale vedete qui come piano 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 a 3 miglia orari addirittura qui ha rallentato tantissimo stia per raggiungere il suo owner qui è un po molto lento devo dire forse sarebbe potuto andare più veloce ma probabilmente il sole le sta dando un pochino fastidio ma vedete come piano 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 comunque sta raggiungendo il suo follower che proprio lo vediamo lì a sinistra ora la macchina si fermerà e il suo owner potrà salire altro giro altro regalo abbiamo appena finito di ricaricare l'auto ricordo che è una model x 100 quindi ha una batteria da 100 kilowattora vedete lo stop vedete le varie auto che passano davanti adesso la tesla model x attenderà il suo turno pazientemente piano piano si avvicina sempre di più allo stop si avvicina e decide di partire vedete che qui le strade sono ben delineate le corsie sono ben delineate lei tiene esattamente la sua corsia qui ci sono corsie gialle corsie bianche senza nessunissimo problema l'auto rileva esattamente quello che c'è disegnato sulla strada vedete qui questa piccola curvettina l'auto rimane comunque nella sua carreggiata non si sposta di un centimetro ragazzi qui ha esattato un secondo ma si è inserita esattamente dove doveva inserirsi qui poi dovremmo andare a destra ma c'è una particolarità qua c'è una ciclabile e l'auto la evita ma deve comunque girare a destra qui probabilmente l'auto sta un attimo pensando cosa deve fare gira tutto il volante e piano pianissimamente dovrà andare a passare la ciclabile e andarsi ad infilare vicino al semaforo ecco vedete che qui adesso l'auto davanti le fa un po di spazio l'auto passa attraverso notare sempre che ha messo la freccia notare sempre in alto a sinistra che ha messo la freccia vedete qui adesso si fermerà per lo stop attenderà il verde e ripartirà piano piano si avvicina il verde è scattato attende ancora di poter passare ecco qui io sarei stato molto più aggressivo ma chiaramente l'intelligenza artificiale ragazzi ha ancora bisogno di un attimino per imparare comunque tante auto stavano sfilando quindi non è chiaramente in sicurezza in questo momento l'auto sta ancora pensando ha sempre fuori la freccia c'è sempre il verde e vediamo che ha deciso di partire no si ha deciso di partire di nuovo si infila all'interno della sua corsia di destra rimane sotto i 30 sotto il 30 miglia orari anzi adesso siamo a 40 il limite di velocità è a 40 miglia orari quindi rimane sui 40 più o meno adesso si rinfila qui c'è una coda davanti c'è un nuovo semaforo e guardate quante auto riesce a vedere ragazzi in alto a sinistra vedete tutte le auto che sta vedendo in questo momento io ne conto almeno 15 cioè veramente uno spettacolo che notate anche che ci sono circa 5 semafori e lei li vede tutti le auto sono ripartite anche la nostra tesla riparte notate a sinistra la moto che si era vista anche all'interno del tachimetro chiaramente l'auto deve girare a sinistra quindi mette la freccia si mette nella sua corsia correttamente altro semaforo ma questa volta è verde l'auto prosegue dritta per la sua strada senza esitare ragazzi avete visto che roba senza esitare vedete i colori che vengono attribuiti alle varie auto blu giallo verde e in questo modo l'auto sa e dà la priorità a diverse auto chiaramente la macchina davanti a lei è quella più importante quindi se la macchina davanti a lei frena anche lei deve frenare e le blu che sono quelle subito vicino a lei e anche quelle hanno una buona importanza perché se dovessero cambiare corsia dovessero entrare nella loro nella sua corsia dove sta viaggiando lei devono chiaramente deve chiaramente rallentare ecco qui adesso l'auto dovrà girare a destra ma ha già mantenuto la corsia di destra quindi mette la freccia ok a te non sta mettendo la freccia ok l'ha messa adesso sì più o meno 50 metri prima 100 metri prima messo la freccia c'è rosso attende e poi gira come sempre io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto questo video e scrivetemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale io vi ringrazio anzi ringrazio tanto anche tesla rage che mi ha lasciato utilizzare parte del suo video che è stato girato in america appunto sulla model x di questo owner fortunato quindi grazie mille tesla rage mi raccomando ragazzi se sapete l'inglese andate a dare un'occhiata al suo canale che è veramente molto molto interessante io vi saluto come sempre e ci vediamo prossimo video